Salve a tutti. Vogliamo comunicarvi che l'ENS era presente al tavolo tecnico convocato dall'Agicom. Questo evento è molto importante perché la prima convocazione del tavolo tecnico era aperta alle associazioni di categorie interessate, con l'obiettivo di ascoltare le proposte in merito all'argomento dell'accessibilità all'informazione e comunicazioni per persone sorde e anche per persone cieche con l'audiodiscrizione dei programmi. Insieme alla FUND, alla FISH e alla WIC, l'ENS ha partecipato al tavolo di confronto che è stato molto interessante perché è importante avere garanzia e tutela dell'accessibilità per i consumatori sordi in un'ottica di inclusione sociale. Da ciò l'ENS ha proposto alcuni punti chiave, come ad esempio la presenza di sottotitoli, riquadro dell'interprete, applicazioni di audiotrascrizione, sottotitoli automatici. Sono stati chiesti anche i costi sui servizi di informazione. Abbiamo chiesto alle compagnie telefoniche di prevedere dei piani di offerta uguali per tutti con gigabyte illimitati, cosa che attualmente non accade e sembra che noi sordi veniamo presi in giro. Si è evidenziato inoltre che l'ISBN non riconosce le lingue dei segni e pertanto dovrebbe essere aggiornato. Il riquadro picture-in-picture dell'interprete dovrebbe essere ingrandito, pensando magari di rivolgersi alle case produttrici di televisori affinché sia prevista di default la possibilità di zoomare tale riquadro come già accade per le TV Samsung. Anche i sottotitoli devono avere l'impostazione di zoom-in. Amazon Prime consente di ingrandire la dimensione del carattere dei sottotitoli, mentre Netflix ancora non offre tale impostazione. Sono quindi stati forniti una serie di suggerimenti tecnici e proposte. Alla prossima convocazione discuteremo nuovamente questi punti, nonché del rinnovo del contratto con la Rai, che attualmente non soddisfa i bisogni delle persone sorde. C'è poco servizio di interpretariato. Gli altri canali della Rai, come RaiStoria, RaiMovie, RaiGulp, RaiYoYo, non hanno il servizio di sottotitolazione e non è previsto alcun riquadro per l'interprete. Stessa situazione è presente anche su RaiScuola. Tutto ciò è molto importante che venga migliorato per evitare esclusione, sempre in un'ottica di inclusione completa. Lens ribadisce il proprio impegno a partecipare attivamente ai prossimi incontri e vi terremo informati. Un saluto a tutti! Grazie a tutti!